Se Sadguru potesse tornare nel passato, non per dei poteri yogici, ma se ci fosse una macchina del tempo, e con l'ugimiranza, sapendo ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, Sadguru ucciderebbe Hitler bambino? È la prima domanda che è venuta fuori. Se ucciderei Hitler bambino? Sapendo che sei milioni di ebrei potrebbero essere salvati dalle tue azioni. Vedi, Adolf Hitler è una conseguenza, non è la causa della Seconda Guerra Mondiale. Nel senso che ci sono stati secoli di odio verso il popolo ebraico. Non è spuntato all'improvviso a causa di Adolf Hitler. Lo ha usato politicamente per fare ogni tipo di cose. Questa è un'altra questione. Ma questo odio è stato endemico nella popolazione. Non per uno o due anni. Letteralmente per 18 secoli è stato vivo. Ora, Adolf Hitler è diventato un rappresentante di quell'odio e ha consolidato quell'odio organizzandoli in modo tale da farlo diventare un enorme disastro. Ma il disastro si stava sviluppando da molto tempo. Da sempre la gente accusa gli ebrei di essere gli assassini di Gesù e vuole prenderli. Sono stati perseguitati in così tanti modi, non in un modo. Ogni generazione ha persecuzioni su piccola scala che accadono in varie società. In quella parte del mondo almeno, non qui. Quindi, quando Adolf Hitler è arrivato, ha visto quello di cui state accusando Adolf Hitler e la competenza. Esattamente. Tutti avevano lo stesso odio. Lui ha organizzato questo odio in qualcosa di molto competente, orientato ai risultati. Innumerevoli esseri umani sono venuti, che sono tirannici quanto Adolf Hitler. Fortunatamente non erano così competenti. Ecco perché la domanda. Non so se abbia studiato all'Istituto Indiano di Management. Perché le sue capacità organizzative sono straordinarie. Devi osservarlo. Se solo avesse organizzato questo, non contro una particolare comunità, ma per il benessere del mondo, che organizzatore fantastico è. Quindi, ed è la sua competenza che stiamo parlando, l'odio rappresenta nella società. Lo ha organizzato e lo ha trasformato in un risultato finale di tipo disastroso. Vedi, in ogni generazione ci sono dei tiranni. Fortunatamente sono impotenti. Fortunatamente. Sono ovunque. Non pensare che non ci siano. Ogni giorno incontro migliaia di persone. Dovresti vedere che tipo di mentalità le persone hanno. Quanto odio endemico hanno per qualcuno che nemmeno conoscono. Incluso me. persone che non mi hanno mai incontrato, persone che non hanno mai scambiato due parole con me, hanno così tanto odio. Dico, qual è il problema? Nemmeno mi hai ancora visto. Ma no. Quindi questo odio endemico è alimentato nella società, sotto forma di religione, nella nostra società sotto forma di casta, credo, ideologie. Vedi, tutti sono concentrati su Adolf Hitler. Non sto cercando di sminuire quello che ha fatto. È un uomo. Così tante persone si causano dolore a vicenda. Ma lui è un uomo che ha organizzato il dolore umano come nessun altro. Ne ha fatto una macchina. In un modo davvero organizzato, come un'industria. Non uccideva solo per uccidere. Ha creato un'industria della morte, sai? Una vera e propria industria. Hanno proprio allestito delle fabbriche della morte. Quindi mai prima qualcuno lo aveva organizzato. Ma non pensare che mai nessuno prima abbia avuto quelle intenzioni. Abbia avuto quelle stesse emozioni. Le avevano. Ma quest'uomo lo ha organizzato. Quindi uccideresti Hitler bambino? No, non avrebbe aiutato perché magari un altro tipo con delle competenze sarebbe venuto fuori. Non sai mai. Quindi ciò su cui dobbiamo lavorare è... Dobbiamo lavorare, come vi dicevo, sulla cultura della pace. Questo è importante. Non abbiamo mai lavorato sulla cultura della pace. Solo quando ci esplode in faccia vogliamo che sia risolto. Altrimenti ci occupiamo degli affari nostri. Il modo in cui guidiamo per strada è violento, va bene? Non è veloce. È proprio violento. Mi piacerebbe che guidassero veloce. Se fossero abili, guiderebbero veloce. Non sono abili e sono dei conducenti violenti. Violenza significa che non ti importa se qualcuno si fa male. Non è così? Ci siete? La violenza non significa necessariamente che ti tirerò un proiettile. Non mi importa se ti fai male. Questa è violenza. Non è così? Quindi questo è dappertutto. Dobbiamo... Vedi, la cultura non è qualcosa che puoi costruire in una notte. Gli slogan li puoi costruire in una notte. Puoi fare dimostrazioni anti qualcosa in una notte. Non puoi costruire una cultura in una notte. Ci vuole una vita di dedizione per farlo accadere. Nessuno ha dimostrato questa dedizione. Tutti vogliono una soluzione immediata. Quando qualcosa esplode, tutti urleranno. Non appena è finito, si fanno gli affari loro. Quindi è molto importante. Voglio che tu capisca. Gli Adolf Hitler possono nascere proprio ovunque. Proprio ovunque. Perché la cultura del disprezzare e odiare altre persone che non sono come te è così radicata nella società. È solo una questione di... Deve fare un master qui. In sostanza stiamo parlando di... Sto facendo i complimenti all'istituzione. Non è che... Capisco perfettamente. Ma il problema principale qui è che affronti le cause profonde piuttosto che le manifestazioni della causa profonda. Sì. Proprio così. Le conseguenze non possono essere affrontate. È al processo che dobbiamo dedicarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!